Ciao, mi chiamo Marco e sono uno speaker professionista con più di 200 feedback positivi. Se stai cercando la voce adatta ai tuoi progetti, beh, sei nel posto giusto. La mia voce è versatile, giovane ed energica e l'ideale per ogni necessità. Spot, documentari, segreterie telefoniche, narrazioni, explainer video e molto altro. E puoi averla a soli 5 dollari in esclusiva qui su Fiverr. Ordina subito il tuo gig e ricevilo in meno di 24 ore. O contattami per avere maggiori informazioni. Scegli la garanzia di un professionista a 5 stelle.